Il tema che oggi più che mai mi convince della presenza organizzata di una forza politica come i tagli di valori è quella di immaginare non soltanto la coerenza degli atti e dei fatti che si propone da questa forza politica, questo partito, ma anche proprio riuscire a rendere effettivo e praticabile quello che io definisco quasi una radicalità evangelica dei valori che rappresenta, perché parlare di legalità, di giustizia, di trasparenza, di rispetto delle regole è parlare dell'essenza stessa dell'uomo, della sua capacità di confrontarsi col prossimo e di rendere fattibile e possibile il superamento della contrapposizione degli interessi che è l'elemento di fondo attorno al quale si costruisce la proposta politica. Questo è. E oggi come oggi credo che indicare Italia dei valori come progetto politico, proposta politica sia affidarsi ad una dimensione, ad uno spazio reale attorno al quale costruire poi un'alleanza più ampia, capace di dare risposta al paese e poi anche di poterlo governare.